Ancora ben trovati dalla redazione di Florence Multimedia, in studio Agnese Fedeli. Cominciamo dall'autostrada sulla 1, coda per traffico, tra Calenzane e P1 Variante in direzione di Bologna. Più a sud, Prudenza per Pioggia, tra Chiusi e Ceprano, raccomandiamo di moderare la velocità e di mantenere la distanza di sicurezza. A regolare al momento il traffico in Fipili, dove segnaliamo cantieri tra il 6 maggio e fine giugno, tra Ginestra e Montelupo nei due sensi di marcia. Le tratte interessate sono quelle comprese tra i chilometri 14,8 e 17,4 in direzione mare e 17,5 e 15,100 nella carreggiata in direzione del capoluogo. Possibili disagi. In chiusura per il traffico ferroviario, l'Intercity 15,33 Mirano Centrale Grosseto sta viaggiando con 25 minuti di ritardo. L'arrivo a destinazione al momento previsto alle 14,50 salvo recupero. Moversi in Toscana Infi è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Per ora è tutto, viaggio! Per ora è tutto, viaggio!